E' proprio il suo modo di operare Potremmo lanciare un appello? Quindi? Parliamo di questo appello? Vado a vedere questa camera? Facciamo questo appello Visto che nella mia vita privata sta davanti a strana fashion Che appello vogliamo fare? Come voglio un uomo finalmente Magari che nell'universo uno ce l'è, come dico io, no? Allora, deve essere fisica, non è tanto importante Perché sono abbastanza profonda Lo voglio essenziale che abbia più palle di me Quindi uno da una personalità abbastanza Anzi, è molto forte Che sappia avermi testa Ecco perché di bla 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 non ho conosciuto fin troppi Eeeh Eeeh Detto questo Uno che abbia una sua posizione, bello deciso, determinato Perché abbia un senso di protezione anche nei confronti Che non mi dobbia fare io sempre l'uomo della situazione Perché è quello che mi è sempre capitato in tutta la mia vita Non mi piacciono i tipi troppo sdolcinati M'ammazzo Troppo sdolcinati No, non gliela posso fare Praticamente mi piace alto Di solito mi piacciono il mio posto Quindi biondo occhio azzurro Visto che io sono molto mediterranea Un po' spagnola Eeeh Eeeh Cioè, tendenzialmente mi piacciono più gli stranieri degli italiani, eh Gli italiani sono un po' più open-minded Ci stanno un po' di più italiani Eeeh Comunque stavano nella direzione sbagliata No, no, giusto Stavamo dentro un po' di chilometri Che ansia Eeeh